Grazie. Premio Tauro d'Oro a Richard Dreyfus, consegnato dall'assessore regionale del turismo, Sandro Pappalardo. Grazie ancora alla Regione. Premio a Richard Dreyfus, consegnato dall'assessore regionale Sandro Pappalardo. Ne approfittiamo per salutare anche il Presidente della Regione Siciliana, l'Onorevole Nello Musumeci. La parola a lei, assessore. Bene, buonasera a tutti. Uno spettacolo stupendo. Vi porto ovviamente i saluti del Governo della Regione Siciliana, i saluti del nostro Presidente Onorevole Nello Musumeci. Sarò brevissimo. Sindaco, accetto il tuo invito a rilanciare ancora di più gli spettacoli all'interno di Taumina e non solo, di Anfiteatro Sicilia. Come ben sapete, il Governo della Regione da subito ha puntato al mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura, perché riteniamo che questi siano mondi indispensabili per il rilancio della nostra fantastica e splendida Regione Siciliana. Per me è un onore essere a questa 64esima edizione, che credo che oggi rappresenti uno dei pilastri all'interno del folto cartellone di spettacoli che la Regione Siciliana offre quest'anno. Prima di abbandonare il palco voglio solo fare due considerazioni. La prima mi rivolgo, e già ve l'ho detto, agli organizzatori e proprietari di Videobank che mi hanno ringraziato. Non dovete ringraziare il Governo della Regione. Per il Governo della Regione è un dovere essere accanto a tutte quelle persone come voi che ci mettono la faccia, spesso il portafoglio, per fare grande la Sicilia. Quindi è il Governo che vi ringrazia. Seconda considerazione, avendo anche la delega al turismo, non posso lasciarmi sfuggire, è l'occasione di rivolgermi ai non siciliani che sono tanti questa sera. Spero veramente che i nostri profumi, i nostri colori, le nostre bellezze vi entrino nel cuore. Spero di rivedervi come turisti in Sicilia in futuro. Grazie. Grazie alla Regione Siciliana e grazie a Richard Dreyfus. Grazie di cuore. Grazie. Thank you very much. E grazie all'assessore Vappalardo. Grazie di cuore. Grazie.